La musica del Marco è una delle persone che ha uno degli amori per la musica più contagiosi e questo secondo me è un dato importantissimo e ancora più importante oggi dove la musica è un argomento attraversato da tante difficoltà e quindi va a Roma. La musica del Marco è un argomento attraversato da tante difficoltà e quindi va a Roma. La musica del Marco è un argomento attraversato da tante difficoltà e quindi va a Roma. La musica del Marco è un argomento attraversato da tante difficoltà e quindi va a Roma. La musica del Marco è un argomento attraversato da tante difficoltà e quindi va a Roma. La musica del Marco è un argomento attraversato da tante difficoltà e quindi va a Roma. La musica del Marco è un argomento attraversato da tante difficoltà e quindi va a Roma. La musica del Marco è un argomento attraversato da tante difficoltà e quindi va a Roma. La musica del Marco è un argomento attraversato da tante difficoltà e quindi va a Roma. La musica del Marco è un argomento attraversato da tante difficoltà e quindi va a Roma. La musica del Marco è un argomento attraversato da tante difficoltà e quindi va a Roma. Grazie a tutti Grazie a tutti